Sarà una vaccinazione intensiva all'arma contro la meningite che colpisce in Toscana. Il vaccino sarà effettuato gratuitamente a tutti i cittadini di qualsiasi età che vivono nell'area tra Firenze, Prato e Pistoia, compreso l'Empolese, dove è stata accertata una particolare recrudescenza. Chi abita nel resto della regione, compresi gli over 45, potranno beneficiare di un ticket ridotto. La decisione è stata presa a Roma al Ministero della Sanità nel corso di un incontro con il ministro Lorenzin. Solo nel 2016, in Toscana, con una localizzazione individuata soprattutto lungo la Valle dell'Arno, i casi di meningite sono stati 12, di cui 10 da meningococcoci. Due sono stati morti, un uomo di 58 anni e una donna di 65. Tra le altre misure decise al tavolo del Ministero della Salute è anche la costituzione di un'unità di monitoraggio permanente composta da membri della regione, del Ministero e dell'IS per valutare cosa sta accadendo a proposito della diffusione del meningococco C, la disponibilità dell'AIFA, reperire vaccini e negoziare il prezzo, nonché uno studio dell'Istituto Superiore della Sanità sulla durata della protezione vaccinale. Manutenzione e pulizia delle strade Con lo stesso costo, in tre anni, circa 20 milioni di euro, questo è il costo dell'appalto, la VR, che ha vinto ancora la gara, garantisce servizi aggiuntivi. Questo riguarda sia la manutenzione stradale, quella dei marciapiedi, il taglio dell'erba e anche lo spazzamento e la pulizia quindi di zone, di aree particolarmente stressate. Questi operatori hanno riportato anche nella conferenza stampa i dati eccezionali del Comune di Pisa, cioè il Comune di Pisa ha il 50% in più di bisogno di manutenzione o di spazzamento che città che hanno gli stessi residenti ma che non hanno i grandi servizi, il turismo, le cose che abbiamo noi. Quindi c'è una conferma di quanto sia complesso, difficile e anche costoso tenere in ordine questa città. Però si fa di più e meglio con la collaborazione dei cittadini perché ci sono piattaforme digitali per raccogliere le segnalazioni e su queste dobbiamo investire, si sta investendo. Con la collaborazione con le circoscrizioni, con i CTP, sabato faremo un convegno alla Sesta Porta proprio per questo, per mettere a regime un rapporto migliore, per coprire meglio tutti i quartieri e poi puntando, come si è fatto per esempio per l'asse Corsitalia-Volgo Stretto con quel mezzo nuovo che ora è in circolazione, ad intervenire anche laddove ci sono cattive abitudini che danno un segno di trascuratezza. Ecco però, invito tutti poi a vedere anche su internet le schede sul servizio rinnovato perché si vede che sulla base dell'esperienza è possibile fare degli avanzamenti e una sfida per migliorare la condizione della città. Consiglio Comunale a Cascina, al centro anche la questione su efficientamento energetico, si parla della piscina comunale di Cascina, cosa prevede il progetto? Prevede un solare termico che consente alla piscina scoperta di essere utilizzata per un periodo più lungo, quindi scardando l'acqua i mesi di possibilità di utilizzo della piscina aumentano. Questo significa anche più bagnini, quindi più persone a lavorare, quindi un funzionamento della piscina allungata pur essendo una piscina scoperta. Verrà investito da parte di soggetti privati circa un milione di euro che si vanno a sommare al mezzo milione di euro che il Comune ha investito nel rifascimento della piscina esterna. Quindi lo sport è per noi un elemento importante, non a parole, ma diciamo abbiamo dato una validità, se c'è un valore intrinseco, una validità attraverso un'esposizione di un milione e mezzo di euro fra investimenti privati e investimenti pubblici. Ancora una volta il pubblico da solo non fa niente, il privato da solo non è autosufficiente. Se sommiamo le due risorse noi abbiamo più possibilità per i ragazzini di fare sport e quindi di avere una condotta di vita salutare, di avere qualche squadra di pallannuoto che ha possibilità di allenarsi anche di più durante l'anno, visto che l'acqua sarà scaldata. Tutto questo poi fatto con fonti energetiche alternative. Ricordiamo anche che la piscina al coperto funziona già con fonti energetiche alternative, quindi stiamo dimostrando che quella teoria di far funzionare le strutture con fonti energetiche alternative da una teoria può diventare veramente una prassi applicata. Quindi adesso un altro step importante per una zona sportiva per noi importantissima dove i nostri ragazzi vanno anche nel periodo scolastico a fare le ore di cinnastica. In occasione del Consiglio Comunale di Cascina l'Unione Inquilini di Pisa ha presentato una petizione al Sindaco Antonelli e ai componenti della Giunta del Consiglio Comunale in merito all'emergenza abitativa sul territorio. Un bilancio dei servizi della rete Bibliolandia è stato tratto in un'apposita conferenza stampa Lucia Ciampi e la Presidente della rete Bibliolandia, oltre che il Sindaco referente specifico della biblioteca per quanto riguarda l'Unione della Valdera. Un bilancio che nonostante il taglio di risorse generalizzato e anche la riorganizzazione della provincia è abbastanza positivo? Sì, possiamo affermare che il bilancio può essere considerato positivo nonostante delle criticità evidenti. I principali servizi che avete effettuato? I principali servizi sono naturalmente quelli a cui la rete è dedicata e quindi la promozione e il sostegno della lettura. Quindi ci preme l'aumento delle consultazioni, l'aumento dei prestiti, l'aumento degli iscritti alle nostre biblioteche, l'aumento degli iscritti attivi, come vale a dire gli iscritti che in capo all'anno prendono a prestito un libro o più di un libro, quindi attivi in questo senso. E poi naturalmente la rete Bibliolandia si occupa anche di progetti con le scuole, si occupa di sostenere le biblioteche più disagiate con servizi particolari, per esempio un servizio in particolare è quello della Biblio Ape, che è appunto un'ape piaggio, che è appunto fornita di libri, una piccola biblioteca ambulante che va nei luoghi più marginali della provincia e offre appunto il servizio di prestito librario, ma anche di informazioni. Ecco, un servizio di qualità decentrato soprattutto per le biblioteche più svantaggiate. Sono praticamente partiti i festeggiamenti per il Capodanno cinese a Pisa, dal 9 al 12 febbraio alla stazione Leopolda, per il quinto anno consecutivo c'è anche un festival del cinema cinese e una serie di altre iniziative. Sandra Capuzzi, l'obiettivo qual è di questo programma? In realtà dal 9 al 12 c'è una rassegna cinematografica, però il 13 sabato a partire dalle 16 noi festeggiamo ufficialmente il Capodanno cinese. Ormai è un tre anni che riusciamo a realizzarlo, grazie alla collaborazione stretta con l'Istituto Confucio, che ringrazio l'associazione anche della comunità cinese con Mr. Chinton Lin, siamo riusciti a valorizzare una tradizione che per noi in città rappresenta un pezzo importante. Lo abbiamo voluto fare in un modo positivo, spesso quando si parla delle comunità straniere le cronache non sono favorevoli, in questo caso invece raccontiamo una tradizione che è corretto farlo. Quest'anno tra l'altro avremo la presenza del console cinese a Firenze, avremo l'assessore regionale greco, quindi un parterra anche di persone che condividono con noi la necessità di dare voce anche in maniera diversa a una comunità straniera che in Toscana rappresenta una fetta importante anche della nostra popolazione. La vittoria con la Rezza è stata, inutile dirlo, importantissima. Ora gli va dato fiato a questa vittoria con un'altra partita interna sabato alle 20.30, noi andremo in onda alle 23.45 con Rosso Cruciato, Pisa-Santa Arcangio. In una puntata, quella della Nera Azzurro, dove abbiamo visto tante figure, tante persone che rappresentano uno sport bellissimo come l'Ochi, campione d'Italia, vice campione d'Italia maschile, campione d'Italia femminile, e poi tante varie branche delle CUS di calcio a 5, calcio a 11, la sezione abiti. Tra gli ospiti anche il collega Renzo Castelli e il direttore dell'Ipodio di San Rossore, Emiliano Piccioni. Renzo, è una città che da una vita cerca di fare il salto di qualità, anche dal punto di vista sportivo. Perché secondo te è così difficile farla a Pisa? Perché siamo pisani. Non mi basta. Il discorso è lungo, guarda, se ne parlava proprio oggi con una persona. La città è rimasta un po' impantanata fra università, che sembrerebbe una cosa di grande prestigio, invece gira e gira è un tappo, su tutte le altre iniziative, anche delizie, e quindi si è creata questa mancanza di verve, diciamo, di verve. E si vede nei vari ganchi, e si rivelberà anche nello sport e nel calcio. Emiliano Piccioni, poi dove in San Rossore si entra in un periodo straordinario, perché tra poco più di un mese ci sarà il primo Pisa, che chiuderà la stagione. Fino adesso soddisfatti? Sì, direi di sì. Abbiamo avuto una prima parte di stagione, molto molto buona, con dati veramente incoraggianti, anche a confronto dell'anno precedente. Nelle ultime due o tre settimane, il brutto tempo, la pioggia, insomma, ci ha un po' penalizzato. Non disperiamo, ora la stagione entra nel vivo, già da domenica abbiamo i Gran Premi per gli ostacoli, e poi ogni domenica ci saranno delle corse molto molto qualitative. Concluderemo la stagione il 20 marzo con l'appuntamento classico del Premio Pisa. Tu potessi dare un consiglio a chi ci ascolta? Qual è quello che arriva dal direttore? Venite all'ippodromo. Andiamo all'ippodromo. Ha perfettamente ragione. Vi ricordo sabato sera alle 23.45 tutto su Pisa Sant'Arcangelo, e me si gioca alle 20.30 di febbraio, sarà anche una bella trovata, ma ci credo poco. Comunque alle 23.45 vi faremo vedere tutto quello che è successo e ovviamente l'intervista di fine gara. Grazie. 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 Grazie.